Sulla situazione di incertezza in cui si trovano da mesi i dipendenti della provincia di Nuoro e i sindacati confederali di categoria hanno deciso di rompere gli indulgi e di proclamare lo stato di mobilitazione del personale. Ieri hanno inviato una lettera al prefetto Daniela Parisi e all'amministratore straordinario della provincia Costantino Tidio in cui annunciano lo stato di agitazione e avviano le procedure previste dalla legge 146 del 90 sul raffreddamento dei conflitti. Nella notte i segretari territoriali di Cigelle e Cisle Will della Funzione Pubblica sottolineano come il disegno di legge regionale del riordino delle autonomie locali che nelle intenzioni doveva dare un nuovo assetto al sistema è ancora ben lontano dal dirsi attuato. Per quanto riguarda le province si verse in uno stato di incertezza, di assenza di punti fermi, aggravato da venire meno della tradizionale mission dell'ente e ancora di più dalla mancata attuazione della legge regionale. Questa nel quadro del riordino avrebbe dovuto restituire il senso compiuto al nuovo soggetto intermedio. Ad aggravare il tutto alla mancanza di risorse, inoltre prosegue la nota dei sindacati di categoria, ad aggravare il quadro c'è anche un processo di riaggregazione territoriale che stenta a prendere corpo. Per quanto riguarda i territori della Sardegna Centrale si assiste ad una condizione inspiegabile secondo la quale i due ex enti provinciali, Nuero e Gliastra, risultano unificati solo sulla carta. I nostri tentativi per indurre la dirigenza e l'amministratore straordinario alla costruzione di un processo di integrazione e riorganizzazione in un unico ente non hanno trovato riscontro, sottolineano i sindacati. In questa situazione a pagare lo scotto ci sono i lavoratori e le lavoratrici lasciati da soli a rispondere del funzionamento dell'ente, a operare in un clima di grande confusione e a vivere intollerabili condizioni di sperequazione. Da qui la decisione dei lavoratori e dei sindacati di promuovere la protesta e la mobilitazione.